15 concerti in programma dal prossimo ottobre a maggio 2023 al Teatro Verdi di Firenze con affermati maestri ma anche con giovani talenti dei cartelloni internazionali. È quanto propone la 42esima stagione dell'Orchestra della Toscana diretta da Daniele Rustioni. Il programma, come sempre fedele alla tradizione, sarà incentrato su autori d'epoca classica fino al Novecento. Abbiamo anche fatto delle registrazioni del Novecento storico italiano e l'orchestra suona molto italiana perché è un'orchestra che suona anche la lirica e l'interpretazione di alcune pagine sinfoniche credo si possano definire liriche appunto per la passione, il calore con cui vengono interpretate. Per me è importante questo tipo di identificazione a livello interpretativo e che si trovi in armonia anche con i solisti e i direttori invitati. Credo che sia un felice ritorno a quello che è il repertorio standard dell'orchestra e che è poi il repertorio più amato dagli abbonati e da chi segue i concerti di musica classica. Naturalmente non mancheranno delle sorprese e dell'avventura fuori dal repertorio standard. Grazie.